Il periodo di detenzione per analoghi episodi di violenza familiare non era servito evidentemente a cambiarlo. Il giovane di 30 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Andrea per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della sorella, dovrà nuovamente rendere conto dei suoi comportamenti davanti all'autorità giudiziaria. Ad allertare gli agenti sono state questa volta le urla provenienti da un'abitazione del centro cittadino dove una donna, visibilmente turbata, aveva raccontato di aver visto il fratello cercare di trafugare elettrodomestici di proprietà comune e successivamente di aver subito dallo stesso una richiesta di denaro. Di fronte al rifiuto oppostoli dalla sorella, l'uomo non aveva esitato a scaraventarla per terra, afferrandola per i capelli e colpendola ripetutamente con calci e pugni. Solo momento di distrazione aveva consentito alla vittima di liberarsi e di chiudersi in casa lasciando il fratello fuori dall'abitazione. La furia dell'uomo non si è però arrestata dopo aver sfondato la porta di casa e tornato ad ingiuriare e percuotere la sorella. Solo dopo l'ennesima fuga la ragazza è riuscita a chiedere aiuto e ad allertare le forze di polizia. Per il trentenne aggressore, che dovrà rispondere anche di minacce e tentata estorsione, già responsabile di episodi simili nei confronti della madre, si sono aperte nuovamente le porte del carcere di trani.